E' scaricabile online la guida a cura delle aree protette delle Alpi Marittime, i grandi trekking delle Alpi del Mare, dal Colle di Nava al Colle di Tenda, per la scoperta del territorio a piedi, mountain bike e a cavallo. 12 itinerari a tappe con varianti per escursionisti, ciclisti e cavalieri, per promuovere le attività autodoro in quell'estremo lembo di arco alpino tutelato dai parchi naturali del Mar Guarese e delle Alpi Liguri, riconosciuto per essere una delle aree a più alta biodiversità d'Europa. I sentieri descritti nella guida sono arricchiti di profili altimetrici, cartine e informazioni utili per l'organizzazione e il pernotamento. Alcuni sono i trek classici delle Alpi del Sud e vi sono poi quattro itinerari che dagli orizzonti di Pietra delle Marittime conducono al Mediterraneo.